Salve a tutti ragazzi, oggi siamo in questo video di Dundress, sto facendo un'esplorazione atroce Capisco ragazzi di le... perché ho gemme grezze, almeno posso potenziare ragazzi l'arma del Reza Chiri Che da tanto la volevo potenziare Buongiorno ragazzi, adesso ci faccio un bel video e vediamo ragazzi se ce la faccio a farlo da solo Buongiorno ragazzi il boss è un ember, di poco Quindi vediamo, ragazzi apporto un bel po' che non ci gioco, quindi di sicuro le lisciate con l'asce Ce ne saranno una dopo l'altra Dobbiamo solo cercarlo Buongiorno ragazzi, solo cercarlo Ok ragazzi l'ho sentito Eccolo qua Che non le è caduto Ora lo farò prima Per la stagione, se no non ce la faccio io Ok ragazzi, se voi questo boss qui non morirà più, non lo prendo mai Beh ragazzi Oh che modo, caccio a pezzi che si viene da Ragazzi è stortito quindi Ho scutato le fiamme, fai mettere un po' dietro Ah dai dai Ragazzi mi ho appoggiato male ma non lo offendiamo sto coso' Ok 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 Vieni qua, vieni qua Ragazzi la ragazzi sono in combo Ma dopo che un'altra cosa Non mi ha preso No 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 Oh cacchio Ah ti sei ingazzato Dai non gioco con la mia asce Vai da prendere cagnolina Oh cacchio Ragazzi se lo riesco a stordire lo ammazzo Perché se no mi ammazza prima lui però Ragazzi non mi dà il tempo di recuperare la stand Oh cacchio Oh my god Oh cacchio 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 oh vabbè ha droppato qualcosa di erico eccolo ok 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 Sì, non è più stupendo l'attacco da l'ander, non è vero. gioco la mia ascia e che ne do al finire oh dai come l'ho data l'ho cercata io ok tempo levi ok ragazzi l'abbiamo sconfitto a meno che l'abbiamo sconfitto c'era pure i tupi ragazzi comunque ditemi voi cosa ci siete mai riuscite a farlo in altro ucina quale l'ho vinto migliore secondo voi ragazzi un po' di roba me l'ha data al mio posto commentare con grazie chiudere qui video e ciao